eccoci qui ragazzi ben ritrovati buon pranzo buon feragosto a tutti voi allora vi faccio questo piccolo video di aggiornamento oggi non voglio rompervi le scatole più di tanto sia una giornata di festa insomma è ora di pranzo solo per dirvi delle cose ufficiali ufficiale è sono atterrati finalmente a Ciampino a mezzogiorno e mezza Renato Sanchez e Paredes grande entusiasmo all'aeroporto si sono fermati a firma autografi insomma sono sembrati veramente contenti finalmente di essere sbarcati a Roma adesso svolgeranno le visite mediche a Bilia Stewart sicuramente poi firmeranno il contratto con la squadra giallorossa allora Renato Sanchez prestito oneroso di un milione più 15 milioni di obbligo di riscatto legato almeno al 60 per cento delle presenze in campionato sul Paredes la formula non è molto chiara ancora si parla di un indennizzo in maniera definitiva al al paesaggio e me di 4 milioni e mezzo per prenderlo subito a titolo definitivo ma potrebbe anche essere qui una specie di prestito con obbligo di riscatto simile a determinate condizioni come come Renato Sanchez appena ci sarà l'ufficialità poi usciranno le cifre concrete e ve le dirò ragazzi comunque sono sbarcati ufficialmente a Roma come tutti noi speriamo supereranno le visite mediche entrambi e penso che da domani sicuramente saranno a disposizione di Murigno per fare i primi allenamenti con la squadra integrarsi con i nuovi compagni non credo che domenica contro la serenata giocheranno perché comunque è troppo poco tempo toccherà vedere anche le loro condizioni fisiche però insomma ragazzi finalmente finalmente ci sono delle cose tangibili degli affari fatti due centrocampisti che ci servivano come il pane uno per sostituire Matic l'altro per infoltire la rosa quindi ragazzi siamo più sereni più tranquilli più ottimisti adesso bisogna chiudere per pezzapata a tutti i costi comunque entro domani ci dovrebbe essere la fumata bianca anche pezzapata perché stiamo a mercoledì domani raga tocca velocizzare veramente pure quest'ultima operazione sul fronte Marcos Leonardo allora la gente di un giocatore colombiano svincolato dai rangers Morelos 32enne Pinempa si chiama il procuratore del suo giocatore che è femmina se non sbaglio è partita per parlare con i dirigenti del Santos perché potrebbe essere lui essendo svincolato quindi può essere comprato dal Santos nonostante il mercato sia chiuso in entrata dovrebbe essere lui il giocatore che dovrebbe sostituire Marcos Leonardo in vista di una partenza dello stesso per Roma ora detto che il presidente del Santos continua a dire che l'offerta non è valida secondo me è valida detto che il giocatore è fuori rosa da un po' ha saltato le ultime due giornate di campionato non si allena lunedì comunque il club brasiliano potrebbe prendere dei provvedimenti interdisciplinari se non si presentasse agli allenamenti c'è questa trattativa per acquistare un nuovo giocatore non lo so ragazzi io penso che fino al 31 agosto ci sia una minima possibilità che possa arrivare Marcos Leonardo se questo non dovesse accadere secondo me arriverà a gennaio poi vedremo quello che succederà oggi queste le notizie ragazzi godiamoci sto feragosto video breve così non vi rompo troppo le scatole un abbraccio a tutti voi e sempre Forza Roma chiaramente se ci saranno novità ve le dico un bacione a tutti voi